A me, secondo, spero di accorgere che si inquadra il cazzone Avevo la frase dei miei per fare E' venuta dicendo sui miei palchi Ma mai da anni a questo livello Allora dovete immaginare che a terra ci sono 100 euro di cui una verso E non vogliamo Baciamola Chi se ho? Pensavo che mi volevi messo Quella faccia Guardate, quella faccia di una che ha visto 100 euro per terra Balla tu la fai tu Non fare questi gesti Porca miseria, non vedo l'ora che finisce questa canzone Amore ci sono 100 euro per terra Baciamola chi se... Ai spieg, ci sono per finta 100 euro, stavo vedendo sotto la cassa Cazzamai, stanno discutendo ieri stessi Non ci stanno Se ci stanno non stavamo qua stasera Allora Non ci stanno sicuro Tutta la cassa Se te la vedi non te la dà mai le cinghiello questa cosa Vabbè, vada dietro Si vuole lavorare stasera Non si può far salire la cassa Un po' di confidenza Mi putterò questi elementi Dovete immaginare 100 euro per terra Destra Sinistra Destra E abbassate Concentrazione One Two One Two Three Three Two 들어� Michelle Grazie a tutti Il movimento che viene adesso è un movimento molto rischioso, molto pericoloso Anzi, gli paga mezza la cazzo No, perché si mettono da dietro e fanno i ceni Hai ragione però, lo sai, è veramente bene Ve lo spiego prima Il movimento consiste in questo Dovete immaginare, si chiama movimento del posciatore Una cosa facile e facile Dovete immaginare che si è su una pista da sci State sciando A un certo punto, avete anche le racchette Tu non hai bisogno di sci e passare i piedi, guarda State sciando State sciando A un certo punto, vende e state sciando Davanti a voi dice Oh, ma quella la conosco Sta passando la notte attrice Manuela Alcuri Sugli sci Con una tutina di perle molto aderente Sta davanti a voi a due metri e sta sciando Voi, chiamate pure voi gli sci Dite, ma quasi quasi Ma non lo sapete, ma non lo sapete Il movimento, non c'è bisogno che ve lo spiego Dovete guardare, ma dovete alcuni che sta sciando No, a me Ma non lo sapete che sta sciando Che sta sciando Questa è una persona serie Che proteggimi Molta è pericolata Aspetta Il piccino Facciando Stiamo sciando Vedete, a maniera Quasi quasi Con la chiappa Non la raggiungo Crea un po' di atmosfera Come i pacchi Con la vettore One Aspetta Più di atmosfera One Two One Two Three One Ah 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 I doni per fare! Allora, i nomi uno per ciascuno... Uma pessoa da Gianluca, e una pessoa de beaucoup fervento. da questo. Andrea. Andrea. Tu che fai nella vita? Vabbè. Codica. Giuseppe. Una pausa a peppa. Il più bello di tutti. Decisamente. E poi più i più giovani. Chi sei tu? Daniele. Daniele. Ragazzo per bene si vede subito. Mauro. Mattia. E Mattia. Questi tre sono tutte le persone per bene. Potete andare? Avete fatto in tre ruote voi a me? Eh, prima forse facciamo. Oh, aspetta. Che è questo? Ah, no. Ci cambiamo. Allora, fratello, abbia la pazienza. Ce lo facciamo dopo quando uscendo. Eh, parlo che non fa il senso. questo. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito! Buon appetito. Allora, facciamo si fanno i concerti di cantare nei bott anni. Questa c'è una fotografia, la macchina buona. Sto vinde con questa fotografia. Sì Grazie per la visione!